Ora che i cittadini l'hanno difesa, bisogna attuare la Costituzione. Lo dicono i 5 Stelle in Consiglio regionale nella prima valutazione dopo l'esito del referendum. Energia e il lavoro devono tornare al centro dell'agenda politica. Stefano Vidori. I cittadini hanno difeso la Costituzione, ora si tratta di attuarla. Parte da questo assunto la valutazione sul voto referendario da parte dei 5 Stelle in Consiglio regionale. E' pur vero che si è prevalso in Toscana, ma non in modo eclatante, dicono, e soprattutto dalla costa è arrivato un sonoro no. Da sempre la regione toscana ha avuto più interesse nell'investire nella zona intorno a Firenze, nella grande città metropolitana fiorentina, e si è dimenticata i territori montani, i territori periferici e soprattutto la costa toscana. Meno 18 mila posti di lavoro negli ultimi anni della costa rispetto al centro della Toscana. Dunque applicare la Costituzione anche rilanciando vecchi cavalli di battaglia sull'onda degli articoli della Carta fondamentale. Ad esempio con l'articolo 18 la dichiarazione di appartenenza da parte degli eletti ad associazioni esterne, comprese quelle massoniche, o l'articolo 4 sul diritto al lavoro, o l'articolo 47 sulla tutela del risparmio, poi il reddito di cittadinanza e una nuova politica energetica. L'articolo 117 è rimasto intoccato, quindi in tema energetico le regioni dovranno decidere insieme allo Stato. Dobbiamo investire la riqualificazione energetica degli edifici, abbattendo la domanda energetica, creando piccoli impianti decentrati per tutto il territorio toscano. Infine sugli scenari futuri, con il presidente della regione Rosi che si gandida sempre più ad essere l'alternativa Renzi, si aprono prospettive di dialogo, risposta netta. Loro sono dalla parte dei grandi gruppi finanziari, noi siamo dalla parte dei piccoli risparmiatori. Loro stanno da parte delle grandi centrali a carbone, grandi centrali geotermiche, noi vogliamo piccole centrali di produzione da fonti rinnovabili decentrate nel territorio. Da che parte stanno? Mi sembra che loro stiano dalla solita parte e noi stiamo dall'altra parte. Grazie.